Trasformare un filo di cotone in una sinfonia di forme in trecci è l'antica arte del tombolo con cui i sapienti mani realizzano pazientemente pizzi, trine e merletti. Una tradizione ancora molto viva nel Salento che si tramanda di generazione in generazione e proprio il tombolo è stato protagonista della sfilata di oro in Piazza Duomo a Lecce, la cui collezione ha celebrato l'eccellenza e i mestieri antichi, quei mestieri che vengono eseguiti e tramandati dalla Fondazione delle Costantine di Uggiano la Chiesa che ha realizzato gran parte dei tessuti usati per gli abili della Maison francese. Ho sempre ritenuto che non si potesse disperdere questo patrimonio, se non l'avessimo fatto si sarebbe esaurito con il tempo, le poche persone che ormai continuavano a farlo lo facevano nelle case, non lo trasmettevano e magari nell'arco di una cinquantina d'anni anche meno si sarebbe completamente dimenticato. Ma chi c'è dietro questo lavoro? Donne che sono artigiane che ormai avevano smesso di lavorare o comunque lavoravano soltanto per diletto in casa propria, altre donne che noi abbiamo formato perché le Costantine sono anche un ente di formazione professionale. Già da un mese nel laboratorio delle Costantine si lavora per produrre vestiti commissionati da Dior, ma quanto costano le loro creazioni? Noi lavoriamo a metro quadro e siccome la fondazione non ha il fine del lucro perché è un ente morale, quando calcoliamo il costo teniamo conto del costo vivo di produzione aumentato di una percentuale irrisoria per le spese generali.